Seconda lettera da un condominio sulla Midne Shady. Cara mamma, a volte, quando il palpabile silenzio del sonno cala su queste case e il vento ben noto pare affondato nel mare, a volte, prima che la lava lasci spazio al buio, veniamo strappati da un sogno, da un uomo di mezz'età con il volto pietrificato, una stella del cinema. Prima che le barche rompano lo specchio del mare, prima che il giorno sbatta la portiera abbagliato dal suo stesso chiarore. Mamma, è vero, a volte il nemico rosso può celarsi nell'aurora. Ciao, tuo figlio. Poesia Donna, guarda, ho mandato quest'uomo così posso strappargli gli occhi e tenerli per me, con la tua immagine dentro. A te Voglio Voglio Vedere il tuo corpo nero Rendere bianco il mio Voglio Stare disteso al tuo fianco E sentire la notte crescere al cigolare dei passi del giorno Voglio Darti gli anni migliori della mia vita Perché tu possa gettarli sotto i cingoli dei carri armati Come fossero mine Undicesimo sentimento per una donna Mi chiese Cosa avrei portato su un'isola deserta Una barca e te E risposi E la barca la bruciamo sulla spiaggia Poi me ne andai Lasciandola lì Per tenermi il sogno Sì, ringraziamo Lucrezia Forni per le letture che ci hanno già dato Come dire, una prima impressione, una prima pasta della musica Per quanto in italiano Ma qui veramente tradotta in maniera Oserei dire superlativa da Silvia Cosimini E cominciamo questa nostra conversazione Con John Kalman Stefansson Che è uno scrittore che io amo molto Uno scrittore che seguo Che ho cominciato a seguire ancora prima di conoscerlo personalmente E di fare alcuni incontri insieme Ci siamo visti qualche anno fa a Mantova Credo per l'uscita fosse del cuore dell'uomo Forse, non ricordo nemmeno Ma insomma è uno degli scrittori imprescindibili di questi anni E uno degli scrittori imprescindibili del presente E devo dire la verità che quando io leggevo Quindi da lettore appassionato Che non si fa nemmeno troppe domande Che sta dentro i libri Perché è un bel posto dove stare O ne esce in qualche caso Perché non hanno saputo trattenerlo Perché non ha saputo trattenersi Ecco, dentro Ogni volta che ho letto La prosa di John Kalman, Stefansson Ho sempre sentito dentro di me La parola poesia La spia che intercetta La poesia si accendeva Si accendeva come si accende Per alcuni scrittori che amo E in qualche modo Quella era tra tutte Quella che mi faceva restare La poesia intendo Quella forza evocativa Che hanno le parole Che va oltre il racconto In senso stretto Di quello che la storia Poi porta avanti Attraverso le parole Quando leggevo Ricordo il primo libro Che il lessi di John Kalman Era Paradiso e Inferno Poi La tristezza degli angeli Insomma, sono un vero fan Sono uno che ha veramente letto tutto Ecco, però io non sapevo Ai tempi Che John Kalman Aveva iniziato come poeta Quando ho saputo Che John Kalman Stefansson aveva iniziato come poeta Mi è sembrato naturale Non mi è sembrata nemmeno Una buona notizia Mi è sembrato un fatto normale Mi sono detto Ah beh, certo È evidente È una cosa che sta lì E allora mi sono reso conto Che poi In realtà è quello Che a me come lettore Affascina Affascina molto Cioè il fatto che ci sono Esiste Quasi come fosse una specie Animale Quella degli scrittori Dei romanzieri Che lavorano sul doppio tavolo Della prosa E della poesia E che è una specie specifica È qualcosa che nella pagina Si sente immediatamente È una densità dello stile È una musica Che in qualche modo Va a colpire Una parte di noi lettori Che sta in una zona Appartata In una zona più sensibile In una zona Forse più caotica Ma anche più scoperta Allora se oggi penso E pensassimo Provassimo a pensare Tutti insieme Agli scrittori Ai romanzieri Che sono stati poeti Anche lì ci diremmo O poetesse E scrittrici Ci diremmo E in effetti In effetti In effetti È qualcosa di diverso E allora Poco prima Di questo incontro Per l'incontro Di questa sera Mi appuntavo alcuni nomi Del tutto a caso Non hanno nessuna Come dire Nessuna logica Di Di gruppo Però E scrivevo Raymond Carver E scrivevo Primo Levi E scrivevo Pasolini E poi ho scritto Bolagno E poi tra gli autori Viventi Ho scritto Mattia Senar E poi ho scritto Georgi Gospodinov E poi ho scritto Cartarescu Insomma Tutti questi autori In qualche modo Hanno Mi sembra Che siano Apparentati Fondamentalmente Attraverso la poesia Da qualcosa Che io trovo La vera Il velo elemento Dirompente Dei loro libri Cioè Da una grande Libertà Di rompere Le regole Cioè La poesia È come se L'attitudine Alla poesia Quando si trasferisce Alla prosa Diventasse Una grande libertà Di scegliere Che il romanzo O qualsiasi cosa sia Sarà qualcosa Che sarà solamente Personale Che sarà solamente Loro La poesia Nella mia vita Ha una porzione Importantissima Perché la scrivo E quindi sono uno Di quelli che gioca Tra i due tavoli E soprattutto Perché la leggo Ecco io vorrei Cominciare Da questo Da questo libro Da questa conversazione Su questo libro Che si intitola La prima volta Che il dolore Mi salvò la vita Vorrei cominciare Proprio Partendo dal John Kalman lettore Ancora prima Che dal John Kalman scrittore E cioè La prima domanda È In qualche modo Lui C'è un bellissimo Testo introduttivo Un lungo testo Introduttivo Che racconta In maniera vivida In maniera Verrebbe da dire Narrativa O comunque Con una Grande cavalcata Una grande vitalità In rapporto Con la sua poesia E lui in qualche modo Lo dice Ma io vorrei La prima domanda Che vorrei fare A John Kalman È Quanta parte Ha la poesia Nella tua vita quotidiana Nella tua settimana Nel tuo mese Nel tuo anno John Kalman John Kalman Stephenson Di oggi Cioè Quanta è La poesia Che leggi La leggi Ti interessa Leggerla E mi interessa Proprio proporzionalmente Anche rispetto Alla prosa Che leggi O alla saggistica Io leggo Infinitamente Più poesia Di quanto Non regga Non legga Narrativa E mi chiedevo Cosa fosse di te Sì Io leggo poesia Tutti i giorni Non riesco a pensare A un giorno Senza poesia And that's That has been Like that In decades It's just Something that It's It's You know It's It's like Breathing For me Reading poetry Sì, per me è andata avanti per decadi questa cosa ed è come un'urgenza per me, un bisogno quello di leggere poesia. Sì, ci sono diversi modi in cui leggo poesia, cioè posso sia prendere un libro di poesia e leggermi dall'inizio alla fine, oppure prenderne uno a caso e leggere anche solo due o tre poesie, insomma hanno una parte, un ruolo molto molto importante nella mia vita. Ecco, immaginavo ed era normale quella specie di forma di omeopatia che è la poesia, che è quella forma in qualche modo di mettersi delle parole sotto la lingua prima di dormire o durante la giornata, che in qualche modo chi ha contratto questa malattia, oggi non si può dire virus, ma insomma questa malattia della poesia non può farne a meno, perché in qualche modo non è dittatoriale la poesia, non ti chiude dentro un discorso di senso compiuto, la poesia lascia lo spazio, lascia lo spazio il bianco intorno al foglio, lascia spazio a chi legge di mettersi dove vuole, lascia spazio alla frase di significare più cose. E questo credo sia, in chiama la poesia, uno dei grandi benefici. Quando dicevo che il testo, il libro, la prima volta che il dolore mi salvò la vita, ha un bellissimo testo introduttivo, lo dicevo perché questo testo è allo stesso tempo una forma di ritratto dell'artista da giovane, cioè i primi passi, non solo del poeta, ma i primi passi di un uomo che incontra la letteratura, o meglio di un ragazzo che incontra la letteratura, forse vestendo le scarpe della musica, forse sono proprio gli stivali della musica a portarlo dentro la letteratura, e entra nella letteratura attraverso la porta, piccola o grande, decidete voi a seconda della casa che credete sia la letteratura, attraverso la porta della poesia, addirittura in qualche modo escludendo all'inizio che poi sarebbe mai passato, poi avrebbe scritto della narrativa. Ecco, quando si leggono questi testi, in qualche modo si sente qualcosa della giovinezza, e della giovinezza naturalmente non intendo l'elemento di immaturità, cioè l'elemento di essere non ancora formati, ma di nuovo questa specie di senso di contrarietà alle regole, di libertà, una specie di forma di sarcasmo, ci sono alcune poesie qua dentro che sono assolutamente, potrebbero essere persino riverenti, di Homo sapiens, è una delle poesie che amo molto, dice sulla tua lapide confido sarà scritto, a giudicare dal quoziente intellettivo era incredibilmente cretino. Della giovinezza c'è questa, in fondo, non disprezzo delle regole, ma disinteresse al potere. Ecco, in fondo credo che se c'è una parentela tra la poesia e la giovinezza è questa, cioè la libertà e in fondo è costantemente una lotta contro l'istituzione della lingua. Ogni volta sei libero di mandarla a quel paese e di andare a capo quando ti pare. Ecco, volevo chiederti qual era il rapporto, dicevo che sei entrato nella poesia e nella letteratura con gli stivali della musica. Cioè qual è il tuo rapporto con la musica? Cioè allora che cosa ti diceva la musica, la canzone, e come mai era così semplice se era passare dalla canzone alla poesia? Cioè io credo che ho descrittato in questo prologue, Sì, io come ho scritto nel prologo del libro che citavi, sono arrivato tardi alla letteratura, perché mi sentivo perso e non sapevo bene chi fossi. Cioè io sempre ho ascoltato alla musica, e in questo tempo di youth, 17, 18, 19, 20, musica per me era tutto, Sì, io ho sempre ascoltato musica, e anzi quando ero giovane, quindi diciamo 17, 18, 19, 20, per me la musica era tutto. Però non era solo un fatto di musica, ma per me erano molto importanti anche i testi. e io credo che ero, I was drawn to groups or musicians who were where the text was important it was you can felt that it was almost as important as the music and or the music and the text you know work together very different musicians like you know Pink Floyd and Tom Waits Yes, I was particularly attracted to that time by all those groups, those musicians for which the text was very important, that it went together in some way with the music or that there was a research on the text as much as important as the music. I refer to a band like Pink Floyd or musicists like Tom Waits So, and I think that the first writing I ever did or tried was a translation of some Pink Floyd text from the dark side of the moon. I was so taken by those texts that I tried to translate them into English and it was horrible. It was, you know, they were flat Infatti, forse credo che i primi tentativi che ho fatto di scrittura erano proprio sulla traduzione dei testi delle mie ben preferite ho provato per esempio con quelli dei Pink Floyd con Dark Side of the Moon di tradurre dall'inglese all'islandese il risultato era orribile e il testo era molto piatto And I think that was also my first lesson in how important in many levels music is for words We have both words that has music inside them, you know, in some writers, with some work of some writers but also in this case, the music of the Pink Floyd text, they also had the music of Pink Floyd inside them So when I translated them into English, I lost the music Penso che forse da lì ho imparato la mia prima lezione di quanto la musica sia importante dentro le parole e di come appunto per gli scrittori deve essere importante la ricerca di musica dentro i testi e quindi per esempio nel caso dei Pink Floyd mi sono reso conto nella mia traduzione islandese che ai miei testi mancava del tutto la musica dei Pink Floyd e quindi era molto impoverita But my dream, I think, was at that time, was not becoming a poet because I didn't know that I had that in me but I wanted to be a musician or I wanted to be a, you know, rock and roll musician and, after that John Lennon died, I brought myself a guitar because, you know, it was obviously that the Beatles lack a guitar player but I failed there e forse, infatti, se devo dirla tutta all'inizio il mio sogno non era quello di diventare un poeta ma un musicista, cioè di far parte di una rock band infatti, a un certo punto, quando ho saputo che John Lennon era morto ho provato a imparare a suonare la chitarra perché ho subito pensato che ai Beatles serviva un chitarrista però temo di aver fallito quindi forse ho iniziato a scrivere perché non sono riuscito a sostituire John Lennon nei Beatles Ecco, è interessante questa cosa che dici della musica cioè tu volevi tradurre musicisti in cui per i quali il testo fosse altrettanto importante come la musica e portando nella letteratura il pensiero che la musica dove essere almeno altrettanto importante che il testo e naturalmente questo succede la musica è tutto nella poesia ogni poesia è come una specie di bosco in cui un animale chiama un altro animale l'uccello chiama lo scogliattolo e le parole si chiamano tra di loro per via vocale fanno dei versi che appunto in italiano il verso è proprio quello della poesia che tra loro in qualche modo stanno condividono uno stesso habitat che è un habitat totalmente musicale e devo dire che ed ero molto curioso di vedere come la tua traduttrice Silvia Cosimini si sarebbe cimentata cosa avrebbe fatto nella poesia perché non necessariamente un bravissimo e nel suo caso bravissimissima traduttore o traduttrice in prosa poi ha banalmente l'istinto, la sensibilità, la musicalità innata la musica come sappiamo c'è chi ha orecchio e chi non ha orecchio e chi non ha orecchio non è che glielo puoi trapiantare e la traduzione di Silvia Cosimini è stellare nel senso che le poesie cantano evidentemente la musica che fanno nell'originale non te la so dire, non la so e il lettore italiano che non abbia dimestichezza con la tua lingua non lo sa ma certo è che queste poesie non sono delle poesie voglio dire contenutistiche in cui un lettore o una lettrice italiana possa semplicemente dire ah interessante quello che dice no, queste sono proprio dei canti sono davvero delle... la traduzione è davvero notevole nel tuo rapporto appunto in questo entrare nella letteratura attraverso la musica attraverso l'esperienza mancata di Beatles c'è qualcosa che è interessante che mette insieme secondo me quello che dicevo prima della giovinezza cioè l'anarchia della giovinezza o l'essere strutturalmente anti-istituzionale dell'essere giovani con la poesia e in fondo anche con l'istituzione universitaria quello che tu racconti è di un ragazzo di quel tu che eri allora che comincia l'università in realtà facendo prima e dopo e contemporaneamente anche lavori manuali cioè lavori non di intelletto in fondo c'è un'allergia all'università ed è come se invece ma questa è la mia impressione vorrei che mi dicessi che cosa ne penso come se la poesia centrasse di più con il lavoro manuale con la giovinezza e con il rock and roll che non con le aule universitarie dove la letteratura diventa istituzione e dunque potere attraversare e a 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 bl fa, quindi adesso i miei ricordi un po' si confondono, però non credo di aver avvertito appunto l'università eccetera come una minaccia alla poesia, alla musica, ma sentivo senz'altro il sentimento di non appartenere. And it is a, how can I put it, it's a, it was like that with almost everything in my life at that time, it felt that I, yeah, I didn't belong in some way, this alien feeling, not that I was from out of space, but though some kind of feeling that I didn't belong. Sì, ed è un po' non solo legato all'università, ma tutta la mia vita dell'epoca era un po' così, cioè come se fossi un alieno, non nel senso dello spazio, ma come se avessi costantemente una sensazione di non appartenere a quello che stavo facendo a dovero. But I'm very glad that I went to university and, well, I quit two or three times, but I kept on going because, you know, you learn, of course, many things that you wouldn't learn. And there are lots of great teachers there who taught me something that was beyond that that was in the school books. Però in realtà sono, cioè, sono felice da un lato anche di averla mollata anche due tre volte l'università, però in fondo anche di essere andato avanti perché comunque ho imparato cose che non avrei potuto imparare altrove e ho incontrato anche grandi insegnanti che mi hanno comunque insegnato delle cose da cui altrimenti non avrei avuto accesso. Ecco, a proposito degli insegnanti, dei professori, questa tua esperienza poetica è dichiaratamente anche un omaggio ai poeti che in qualche modo ti hanno segnato in maniera letterale, li citi, costruisci poesie addirittura utilizzando i titoli di alcune loro poesie o di alcuni loro libri diversi. Ecco, che importanza per te hanno avuto, per il te poeta, stiamo parlando del periodo precedente il 1994 e poi cercheremo di capire cos'è successo poi, che importanza hanno avuto per te i maestri? I maestri intendo degli insegnanti universitari ci hai detto, ma che importanza avevano per te i poeti e in che modo quei poeti erano importanti? Cioè erano dei modelli da imitare, erano dei modelli da contrastare? Cioè qual era il tuo rapporto con i poeti che amavi? Cioè erano dei modelli di capire, erano dei modelli di capire, erano dei modelli di capire Sì, quando sei un giovane poeta che sta cercando la sua voce, che sta cercando di trovare se stesso come poeta e scoprire che genere di poeta è, l'influenza, uno è influenzato tantissimo da altri poeti. I think it's important when you're a young poet and starting to be influenced, to go through periods that you write poems which is very... which is very under heavy influence from this or that poet, because that's how you learn, you have to go through others to find yourself. And therefore it's so important for young writer or poet to read a lot and read a very different writers. Sì, ed è molto importante in realtà lasciarsi influenzare, mantenersi permeabili. Per esempio io ho passato interi periodi proprio a scrivere poesie nello stile di un certo poeta o di un altro, perché è un modo per imparare, per trovare attraverso il lavoro di altri, attraverso altri, riesci a trovare te stesso. E' per questo che è importantissimo continuare a leggere poesia, a leggerne tantissima, a leggerne anche di molto diversa. e, you know, influence, it's a very positive thing if you learn from it, but it's a very negative thing if you imitate it, then you're not, of course, a poet. E l'influenza è una cosa fantastica se riesci a imparare dal lasciarti influenzare, invece è una cosa pessima se finici solo per imitare, in quel caso non sei un poeta. Ehm, and, but I have always had this urge to, you know, thank authors who I learned from or who I admired when I was young, who were important at that time. and still today I sent always my books to some of the oldest authors who are still living in Iceland who influenced me when I was young just to say thank you for what you did and for your help. Yes, I always thought to have all of the writers that influenced me when I was young and even today, when I write a book, I try to send it to the writers that I feel that I have influenced me from young people, which is a way for me to say thank you. In fact, this is what I really liked, which is the element of recognition, in explicitly talking about the poet, there was a lot this form of homage and recognition and the sense of belonging to a community. A community linguist, a community poet, a community in the background of people who are all trying to walk through the abyss, which is what is the poetry that comes to the point where it is all white. and then there is also this sense of not solitude. There is something that happens, that happens a lot to the writers and writers, who are also poets, is that in some way, in the poetry, the change of the registries is much easier. It is like if the writers, not all, but it is an experience that happens, and that happens to me, I want to know from you how it was for you, that the poetry, even though it is a space much more concentrated, just because it is a space more concentrated, sometimes it allows you to be, in a few verses, in a few words, to be honest, emotional, ironic, sarcastic and sad, which is, in a way, that the roman ballet, for a force of things, it obliges you to very long ways to make you the roads. You take the roads, trip straight, then you take the roads later but, it is more difficult to make things like that, in a way, the moves are difficult to make you. It is something very frequently. C'è una delle poesie che tra le tante poesie che mi piacciono molto di questo libro, ce n'è una che è divisa in due parti che si intitola Due brevi poesie sul mondo e che ad esempio tira fuori un registro ironico così forte e che è seguito dentro il libro da momenti, persino con momenti quando non quasi drammatici. Ve la leggo perché è molto breve, due brevi poesie sul mondo. Uno, sono responsabile, come si vede, da questi cerchi sotto gli occhi insonni, quindi ho deciso di comprarmi un sonnifero. Due, mai capito da dove mi venga questa voglia di darti una bella pedata mentre ti dondoli sull'orlo del precipizio. E qui c'è un punto, una vena molto sarcastica, ironica. Ecco, per te la poesia è o era, e qui andiamo vicino al punto, alla seconda e parte finale di questa nostra chiacchierata, è un posto di maggiore libertà emotiva, emozionale, cioè è un posto in cui è più facile abitare sensazioni differenti o praticare registri differenti? Per te la poesia? Per te la poesia? Sì, certo, ci sono tanti modi in cui il napoletico è molto diverso, almeno per me, come scrittore, per scrivere poesia o per scrivere prose. Sì, certo, ci sono tanti modi in cui una poesia può avere un effetto sul lettore e ci sono anche per me delle sensazioni diverse tra scrivere romanzi e scrivere poesie. Per te la poesia? Per te la poesia? Per te la poesia? Per te la poesia? La poesia è stata quantità. Per te la poesia? E' anche questo poesia? Per te la poesia, perché in un momento nella poesia? Per te le poesia? Per te la poesia? Per te la poesia? sempre un poema che in un modo crescita dal mondo di prose, quindi era un po' differente da solo poesia pura. Anche le mie prose sono sempre stati in qualche modo, se vogliamo, piene di poesia e anche nei libri miei spesso compaiono anche una o due poesie, come se una poesia in qualche modo germogliasse sempre anche dentro alla prosa. I couldn't understand, and I don't understand it today, why I couldn't write poetry anymore, though I wanted to do, but it was like the doors into pure poetry were closed, and so perhaps because I use all my sources or all I had into the prose, the prose took everything. Non capisco, c'è una cosa che faccio un po' fatica a capire in qualche modo, perché non ho scritto più poesie per così tanto tempo, è come se a un certo punto le porte della poesia si fossero chiuse, come se la prosa si consumasse, si assorbisse tutte le mie risorse ed energie. But then, what, two years ago, or two and a half years ago, or something, I suddenly started again to write poetry, and that followed great change in my life. And, yes, and that was perhaps because something totally new happened to me, and the world went upside down. So, I remember this feeling that it was, I couldn't express it otherwise than in poetry. Invece, poi, due anni fa, ho ricominciato poi a scrivere, è stato in seguito a grandi cambiamenti nella mia vita, ma è come se dentro di me fosse nato a un certo punto qualcosa di nuovo, come una sensazione, delle sensazioni che non riuscivo a esprimere in altro modo che in poesia. And so, it can't be, or I think that there are some certain, not feeling, but something in life that can only be expressed in poetry. I mean, you can try in prose, and you can express it in a way, but sometimes the poetry is the only instrument that can deal with that, because poetry goes so deep, it goes deepest of all literature. It goes so deep that only music goes as deep as poetry. E' come se ci fosse nella vita delle cose che possono essere espresse solo in poesia. Puoi anche provare a dirle in prosa, ma forse mi viene da dire che la poesia è uno strumento che riesce a andare molto più in profondità del resto della letteratura, tanto che forse solo la musica riesce ad andare altrettanto in profondità. E' interessante perché ovviamente volevo sapere appunto come era finita questa storia, cioè se era un amore finito quello per la poesia, oppure in che modo era un nuovo amore o un vecchio nuovo amore. ed è interessante perché a un certo punto è evidente che il tuo ingresso poi nella prosa, nel romanzo, avviene con un passaggio tra, forse banalmente tra poesia e poetico, cioè la poesia è come se prendesse tutto quello che della poesia si può trapiantare dentro un romanzo, cioè il poetico, senza la poesia che è quella cosa misteriosa e speciale, che è fatta di musica, che è fatta di connessioni cerebrali, emotive, che non sono spiegabili, che non passano attraverso le frasi di senso compiuto, che non passano attraverso la coerenza, eccetera, eccetera. Quindi a un certo punto per me era molto evidente che la poesia si era trasferita via poetico dentro la prosa e che è la ragione appunto per cui poi la tua prosa è così affascinante, è così commercia con l'assoluto, mi viene da dire, sempre con quel punto di indicibile, cioè della poesia mi sembra che nei tuoi romanzi c'è proprio questo rapporto con ciò che è impossibile dire, al punto che poi magari puoi costruire delle allegorie, delle storie intorno che provano a far sentire in qualche modo quell'indicibile. E quindi poi il fatto che poi secondo me ci sono delle cose che forse si possono dire solo in poesia e forse in prosa. A volte è difficile ad esempio intercettare, cioè capire quale delle cose che ti è venuta in mente per la prosa o per la poesia. Io ricordo di aver per anni appuntato note per almeno due o tre o quattro libri romanzi che non ho mai scritto e che poi di colpo dopo quattro o cinque anni sono diventati una poesia di otto righe. Una cosa su cui avevo pensato di investire quattro anni di scrittura, a fare un romanzo monumentale, avevo capito male quello che mi stava bussando alla porta e che io non aprivo e dicevo oddio chi c'è là, che devo fosse un romanzo. Invece era una poesia che arrivava con un'ottava, con otto righe e li finiva con peraltro una grande gioia compositiva, naturalmente molto più frustrante economicamente fare una poesia di otto righe che nessuno comprerà mai perché è una da sola, oppure fare un romanzo. Una domanda molto banale, molto semplice, che però io con me stesso so definire solo in termini semplici. Io ho molto chiaro che quando scrivo poesia sono più contento di quando scrivo la prosa. Sono un poeta molto più felice, non necessariamente le mie poesie sono più felici, ma sono un poeta molto più felice di romanziere. Come romanziere quando scrivo chi mi sta intorno sa che deve passare attraverso, a stare accanto a qualcuno che la sta passando dura. E quando scrivo poesia, non dico leggiato, ma insomma c'è una grande forma di armonia nel modo in cui sono. Volevo sapere se è possibile dirlo in maniera così banale, se sei più felice come poeta o come romanziere, o che parte di te abitano. No, sono terribilmente infelice sempre. No, no, I don't know. I love writing prose. It gives me, of course, it's a struggle and everything and despair and doubts and, you know, you name it. ma è anche molto intenso e un sentito estremamente buon sentimento per me. Ma io in realtà amo anche scrivere in prosa, certo è sempre una lotta, a volte è disperante, frustrante, qualunque cosa, però è anche un momento molto intenso che mi provoca anche dei piacevoli sentimenti. And it gives you this, yeah, sometimes happiness, and of course then again, again and again and again, you know, doubts and despair, but to have a certain world in your head, in your blood, in your dream, for one or two years or whatever it takes you to write a novel. Certo, però c'è anche un elemento di felicità, poi ovviamente come hai detto prima ci sono i dubbi, la disperazione e tutto, però quando ti succede di avere una specie di mondo in testa a cui stai lì per uno o due anni e cerchi di metterlo su pagina? And it enrichs you, I mean, you feel, well, it gives you your life something completely new and it's like you have access to another world, having this world inside you while you are working on it. Certo, però appunto allo stesso tempo ti dà un accesso a un qualcosa di nuovo, a un mondo che sta dentro di te e a cui normalmente non hai accesso. Well, poetry is, well, it's more kind of bliss if it goes well. For me it's, it's, it's like, you know, a lightning. While prose is more, you know, ongoing work and happiness and despair. Sì, la poesia invece è una cosa un po' diversa perché è come se fosse una piccola benedizione, una meraviglia, è una cosa più fulminante, più fulminea che ti succede e questo ovviamente quando va bene. Invece nella prosa è più, cioè più del, insomma, duro lavoro se vogliamo, che comporta da un lato una grande felicità insieme poi alla disperazione. Ho un'ultima domanda, siamo in chiusura di questa nostra conversazione, di questa serata, che è appunto proprio sulla traduzione, e cioè in particolare sul rapporto con Silvia Cosimini, se lavorare con lei alla prosa e alla poesia è stato differente, se interagite normalmente, se ci sono delle domande, delle curiosità, delle esigenze che lei ha avuto, insomma, se il vostro dialogo in prosa e in poesia è stato lo stesso. Well, it's happy to say that now Silvia Cosimini is in Iceland, and between us is just a small lake, which is in the middle of Reykjavik, and she is on the other side of the lake, so it's only, you know, only a few hundred meters between us. In questo momento Silvia Cosimini è in Islanda e a separarci c'è solo un piccolo lago nel centro di Reykjavik e in linea d'aria tra noi due ci sono poche centinaia di metri. But I think that in poetry, and if I remember it correctly, it's all about, you know, the word, you know, one word or something, while, of course, it's also in prose, but it can maybe be more like a sentence or something. So it's more the details in poetry than in prose. Well, that's not to say the questions. Forse sì, per rispondere alla tua domanda, diciamo che nella poesia il dubbio poteva riguardare la domanda una parola, un dettaglio, una singola parola, mentre magari nella prosa riguardava più delle frasi. But it's always a great, great pleasure to work with her because she is so, I mean, I don't know Italian, I don't read Italian, I'm too stupid for it, but she is, you can sense how extremely clever she is and that she has the sound of music in her. And she is, in a way, a poet. Sì, comunque è un piacere enorme sempre lavorare con lei e io ovviamente purtroppo non leggo l'italiano, ma lo stesso riesco a percepire la sua intelligenza, il suo senso della musica e in un certo senso si può dire che anche lei è una poetessa. Mi viene da dire che questa cosa qua della poesia e anche della traduzione che sta nella poesia è sensibile. Mi viene da pensare che davvero solo i poeti possano tradurre, che poi sappiano di essere dei poeti, che siano poeti o poeti, come dire, conclamati, che abbiano un immaginario, proprio questo è un altro discorso, ma c'è una parte di poesia che può essere solo abitata dai poeti. Siamo alla fine di questa conversazione. Noi restiamo ancora qui perché Lucrezia Forni ci farà sentire ancora e così concluderemo questa serata e ci farà ancora sentire delle poesie di John Kalman-Stefansson nella traduzione di Silvia Cosimini. Il libro è questo qua, lo vedete, ma probabilmente sarà mostrato anche in sovraimpressione in qualche modo. Vi ringraziamo tutti, è stato un gran piacere, è stato un gran piacere parlare con voi, parlare con Pietro, parlare con John Kalman e spero che questo influenzi il vostro desiderio di poesia. Magari a volte anche vinca qualche paura, perché a volte la poesia fa paura, ogni volta mi chiedo come mai fa paura, mi fa tanto più paura un romanzo di 500 pagine che è una poesia brevissima, che secondo me è solo gentile, fortissima e gentile. Comunque buon ascolto, buona fine di serata e grazie a Circo dei Lettori, a Iperborea e a Lucrezia Forni. John Kalman, Pietro, vi saluto a tutti. Grazie Andrea, ciao a tutti. Bye John Kalman. Bye bye. Io non cerco altre parole. La poesia mi ha abbandonato. L'orizzonte si stringe come un cappio intorno al collo e l'ultimo istante mi issa a bordo senza alcuno stupore evidente e se ne va. Amico, non assegnarmi questa vita. È un bel cambiamento morire. La giornata di ieri ha cambiato nome. Non è successo niente, se non che la giornata di ieri ha cambiato nome. Per esempio, non esiste una parola che fermi il battito del cuore, nessuna parola per amanti nervosi, nemmeno una parola da portarsi dietro mentre si aspetta l'autobus. Ma voglio lo stesso comporre questa poesia inutile e dedicarla al mio respiro. Strazio Non ricordo il motivo, ma avevo deciso di porre fine alla mia vita nel fosso, sotto la fattoria. Quella sera, la radio annunciò la morte di Elvis Presley. Fu la prima volta che il dolore mi salvò la vita. Un giorno in trenta secondi Resto a casa tutto il giorno E quando si fa sera Arrivi tu e mi chiedi Che cosa hai fatto oggi? E ti porgo una poesia Che tu leggi in trenta secondi. Uno scricchiolì antico di secoli sotto le scarpe Mi spazzolo di dosso il brusio della città E chiedo del silenzio Non ho ancora bevuto troppo Quando un tale del secolo scorso Mi si siede di fronte Lo seguono un tordo Un piviere Il rimpianto E l'odore dei monti Inizio